Ciao Cici, bentornati sul canale, io sono Enemir e oggi come vedete non siamo nella solita location, non sto facendo questo video da casa, ma bensì dalla mia seconda casa, ovvero dalla macchina. Questo perché sono un po' impegnato in questi giorni e essendo appunto domenica sera non volevo mancare l'appuntamento con un po' di codici per i più affezionati e quindi ho pensato di fare il video comunque dalla macchina. Alla fine quello che vi importa sono i codici, quindi direi di passare subito al giveaway. Come ogni domenica sera ho 10 codici per il gioco di carta collezionabili online che potete riscattare, ovviamente il primo che li riscatta se li piglia e niente, quindi direi di passare subito a farvi vedere i 10 codici. Iniziamo con il primo codice che è di leggende iridescenti, la collezione è quella con le spillette di Marshadow e il codice eccolo qua, la mia bellissima e capacissima cameraman ve lo metterà a fuoco, perfetto. Poi il secondo codice è da sole e luna ombre infuocate, quindi dall'inglese Burning Shadow, l'ho dovuto scrivere perché altrimenti non mi ricordavo come si chiamava. Via! Terzo codice, abbiamo un set abbastanza particolare, ovvero Trionfo dei Draghi, quindi uno degli ultimi set esterni a sole e luna. Poi abbiamo sole e luna, invasione scarlatta. Ovviamente al solito fatemi sapere nei commenti sotto al video cosa trovate da questi pacchetti digitali. Via! Poi, non mi ricordo quanti ne mancano, o ne mancano ancora un sacco. Abbiamo un altro Trionfo dei Draghi, set fighissimo tra parentesi. Poi abbiamo sole e luna eclissi cosmica. Ui, eclisse? Cosmica? Eclissi? Cosmica? Penso sia eclissi cosmica, ma va bene così. Poi abbiamo un codice dalla collezione di Galar di Sobbol, che è uno di quei box quando ancora spade e scudo il set non era uscito, quindi conteneva ancora buste di sole e luna, però aveva appunto le promo con gli starter. Questa qui è la versione con Sobbol, che ovviamente è il mio starter nel videogioco, quindi ho preso il box con Sobbol. Fatemi sapere cosa trovate anche lì. Poi abbiamo un altro pacchetto di leggende iridescenti, uno dei miei set preferiti degli ultimi anni, proprio perché ci sono i Pokémon Shining o iridescenti. Poi un altro pacchetto di leggende iridescenti per voi. Fatemi sapere se trovate Pokémon Shining. Ovviamente c'è My Boy Mew Shining che... Poi abbiamo l'ultimo codice per la serata, ed è di sintonia mentale, quindi uno degli ultimi set rilasciati per sole e luna. Via! Bene, questo è tutto ragazzi per questa sera. Come al solito questi sono i dieci codici. Fatemi sapere nei commenti sotto al video cosa avete sbustato da questi pacchetti digitali. Siete sempre benvenuti a lasciare un like, iscrivervi al canale e a guardare un video che metterò qui su a destra o a sinistra. Ancora non so bene dove posizionarlo, ma comunque siete benvenuti a guardarlo. E niente, direi che per oggi è tutto. Buona domenica sera, noi ci vediamo alla prossima domenica. Se volete accapararvi i codici ricordatevi di cliccare la campanella, così ricevete la notifica appena il video va online la domenica sera. E non rimanete fregati senza codici. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, cicci! Ciao a tutti!